Cioè, rendiamoci conto, la Roma quest'oggi ha giocato veramente una partita, invece di essere incisiva è stata un molare, sono stati incisivi come un molare, io rimango veramente allibito, sconcertato, non so più nemmeno che altro dire, le stesse parole, io potrei rimettere, cambiare titolo al video precedente e ripostare lo stesso video, solo che abbiamo subito un gol all'ottantaquattresimo, quando veramente ormai non c'era più niente da fare. Ma lo sapete qual è il problema? Io l'ho sempre vista, ho sempre visto la Roma aggressiva, tenace, spigliata, caparbia, per niente cinica, per niente cinica, e voi lo sapete io calcisticamente parlando, cinica è una parola che non uso mai, oggi è stata così cinica che è sembrata brutta. Ha fatto veramente schifo. Hanno perso una partita che potevano benissimo vincere 3 a 0. Mi auguro che domani i ragazzi non facciano la stessa cosa, perché ci manca solo questo, a non portare cattivari a Torino. Ragazzi, attenti, è la partita più delicata della stagione. La Juve è debole. Debole. Debole no. Non è inferiore. È alla nostra portata e dobbiamo farle male. Torniamo alla partita di oggi. Le nostre carte non sono praticamente servite a niente. Come se avessimo avuto un malo costante. Cattiveria, meno due. Cinismo più uno. Tenacia, meno due. Signori miei, noi abbiamo mandato via una grande allenatrice e l'abbiamo sostituita con lui. Richiamiamola. Grazie.